M. Baldovin, un'altra vittoria pesante questa a Trento, i tre punti sono importanti, immagino quanto quelli conquistati a Civitanova, fuori in una situazione obiettivamente diversa. Sì, è stata una partita molto diversa, chiaramente sono tre punti importanti come lo sono tutti in ogni caso. Ogni partita di questo campionato è una partita difficile e chiaramente il campo di Trento è uno dei campi più difficili dove giocare. L'analisi della partita? Beh, chiaramente noi non sapevamo come sarebbero partiti, loro hanno fatto un po' fatica a trovare il ritmo all'inizio, poi invece Nimir ha iniziato a giocare bene, anche coinvolgendo più o meno tutti quanti e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Il primo set abbiamo, diciamo, un po' sfruttato forse questa situazione, siamo stati bravi a muro a gestire bene alcune situazioni. Poi siamo un po' calati, probabilmente un po' in attenzione, soprattutto nelle fasi di contrattacco siamo stati poco precisi sia nell'attacco che anche nella ricostruzione dell'azione. E questo chiaramente non va bene, dobbiamo cercare di migliorare molto questa fase del gioco perché per noi è molto importante. Ok, ok a posto.